Questa epidemia è un progetto, è un progetto ovviamente che io ho sempre attribuito al demonio. La pandemia è un progetto del diavolo per consentire alle elite mondiali di impossessarsi del potere instaurando una dittatura sanitaria. Ne è convinto padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, la potentissima emittente cattolica che trasmette da erba ed è seguita in tutta Italia. Una posizione a dir poco singolare, ma in linea con padre Fanzaga, il quale nei suoi sermoni radiofonici ha spesso diffuso opinioni che hanno acceso dibattiti e forti polemiche. Mercoledì scorso, nella rubrica lettura cristiana della cronaca e della storia, padre Fanzaga ha attribuito a Satana il progetto del coronavirus. Un progetto volto a fiaccare l'umanità, metterla in ginocchio, instaurare una dittatura sanitaria, una vettura cibernetica, creare un mondo nuovo, che non è più quello di Dio creatore, ma un altro mondo nuovo attraverso la eliminazione di tutti quelli che ovviamente non dicono sia questo progetto criminale. Anche l'elezione negli Stati Uniti del democratico Joe Biden, secondo padre Fanzaga, sarebbe parte di questo progetto demoniaco. Come c'è chi lavora per la Madonna, c'è anche chi lavora per il diavolo. Questo è un progetto che ormai sono tutti d'accordo alle elite mondiali che pensano di aver vinto mai la battaglia. Anche con il nuovo presidente USA sarebbe la torta sulla ciliacina perché c'è la grande battaglia. Ma in sostanza quale sarebbe l'obiettivo della pandemia architettata da Satana? Ridurre il mondo in schiavitù, secondo il direttore di Radio Maria. Cioè vogliono resettare tutto, fare un mondo nuovo, dove c'è niente più cristianesimo, niente più Cristo, niente più croce. C'è la religione dell'uomo, la religione della natura, c'è il dominio delle classi finanziarie su tutta l'umanità ridotta in schiavitù.